Terza lettura, Garbadella, il pittore La Fontana, quaderno numero 3 di Fada Garbadella. Qui Carlo Acciari è nel suo studio alla Garbadella. Eravamo arrivati che Fada Garbadella e il suo amico messicano erano andati a studio da Carlo, lo studio che sta proprio di fronte alla Fontana Carlotta, e Carlo porta da bere per vendare alla nuova amicizia. Lui e il messicano iniziano a parlare di mostre, opere, tecniche, colori. Gli ascolto, mi riguardo e penso che gli artisti in fondo in fondo restano tutti un po' bambini. Poi all'improvviso Carlo cambia discorso e rivolgendosi a me. E soltanto a me, eh, non parla più verso col messicano. Vieni di là che ti faccio vedere Carlotta. Lo seguo in un'altra stanza, dove c'è un cavalletto con un grande quadro, proprio della scalinata e della Fontana, con una bella luce e le ombre che ricadono sulle scale e la piazzetta. Aspetto che mi dica qualcosa del quadro. Invece non parla più di colori ed esclama. Ma vedi? Io, io mi incacchio perché parlano, parlano, parlano. E poi fanno poco e niente per aiutare l'arte. Non capisco di cosa mi stia parlando, ma lui dentro qualche bubone sulla Fontana ce l'ha. E mi parla come se io sapessi. Intanto ci ha raggiunto il messicano. E Carlo continua. Ti piace allora? Guarda, sai da quando la dipingo? Ormai la posso fare anche a occhi chiusi. La vedo quando vado a lavorare, la vedo quando torno, la vedo quando mi affaccio alla finestra di casa e la vedo quando vengo a studio. Ho capito. E rispondo. Ce l'ha inglobata nel cervello? No, nell'anima. E la risposta che mi arriva decisa da guerriero di altri tempi, capisco finalmente quello che avevo messo in modo fino ad allora. Avevo messo in modo tanto per farla restaurare e in qualche modo un po' l'avevo fatto incavolare. Già, l'avevano fatto incavolare i 5.000 calendari con il disegno di Rossana Bartolozzi distribuiti a tutto tondo nei tanti negozi di Italia della Riccia a Ginori. E non solo. Inoltre avevo portato uno dei muralisti romani a dipingere il murale proprio vicino allo studio di Angelica. Insomma, essendo un po' come lui capì, ero e sono gelosa della mia garbatella, della mia fontana. Come me lo sono quasi tutti i garbatellani. Ognuno a modo proprio. Avrei dovuto coinvolgerlo, ma non lo conoscevo. Non sapevo come e da che parte prenderlo. Così presi la palla al bazzo indicando il grande quadro della nostra scalinata. tutto d'un fiato dissi Carlo, posso farci il calendario del tempo ritrovato 1998? Mi rispose subito di sì. Il messicano proposse che era meglio firmare una liberatoria e Carlo, un po' seccato, gli rispose Oh, noi siamo garbatellani. Mica dai, facciamo un altro brindisi a te. Stavolta, Mire, bevi, non ci posi solo le labbra. Questo deve essere un brindisi all'arte dell'amicizia. Ecco, nel suo studio iniziò la nostra amicizia. Un'amicizia tra il profumo dei suoi quadri, dei suoi colori, di un po' di muffa e un bicchiere di Forosis. Da quel brindisi, tra pennelli e cornici, la nostra amicizia è cresciuta di giorno in giorno per il nostro comune amore, lei, la Fontana Carlotta. Preparai il calendario del 1998 parlando della Fontana, della Carpadella, dell'antica strada del Tridone, che un tempo si chiamava Via dell'Angelo Custode. Come sempre, fermai il tempo con la mia arte, quella della filastrocca. Vi va di sentirla? Ve la dico? O vi scoccia? Certo, non c'è niente a che vedere con la pittura di Carlo, sia ben chiaro. Ve la leggo per riportare proprio quello che scrissi all'epoca. Era il 1997-98, perché naturalmente il calendario viene proposto per il 98-1998, ma al tipografo lo portà nel 1997. Allora, Roma, alla ricerca del tuo Angelo Custode, molte casse ormai sono vuote. C'è bisogno di andare alla ricerca del tuo Angelo Custode. Forse è perduto nella confusione proprio lì, nel 28 al Tridone. Il mio tempo ritrovato solo con gli Ippocampi, sapendo bene che l'ingratitudine è fifa mista alla stupidità. Bollette da pagare, panni da stirare, c'è sempre da lottare, la fontana non sta a guardare. No, no. L'universo ormai è tutto dei matti, si vive molto bene con i gatti, poi se hai anche una figlia ed un cane le fatiche certo non sono vane. Tra tante rifatte dame l'angelo dell'amore sotto la luna fa suonare le campane. Il coraggio non può essere ostaggio. in un mondo ormai intronato, spesso anche troppo svenduto, va da tutti aiutato. Io le scale le salgo da sola, per me non esistiamo seruola. Vado su piano e non di corsa. rossa di passione è la mia borsa. Nella testa i giusti grilli. Basta con gli strilli. Il mio investimento è l'arte della filastrocca. L'importante è il sorriso sulla bocca. vorrei che tu tenessi bene in mente le parole del mio amico Enzo Ventri che in quella canzone scrive c'è una voce di Roma che canta dentro l'acqua della fontana. Poi diventa ancora quella è Carlotta della Garbadella. Lì in cielo brilla l'antica stella. Volò su la rampa il nostro angelo. quell'angelo ha tra le mani una luce e ha luminoso e felice 1998 ci conduce. Finalmente nella primavera del 1998 iniziarono i lavori di restauro della nostra fontana. Poi vi leggerò il resto. Ciao ciao!